Domani alle 11, dalle 11 alle 13, tutti in piazza, chiaramente nel classico rispetto di tutte le regole anti-covid e quant'altro, sarà assolutamente una manifestazione pacifica, una manifestazione organizzata, una manifestazione nella quale abbiamo preparato delle sorprese, quindi diciamo che non stiamo a dire tutto quello che succederà domani, una manifestazione aperta a tutti e tutte le categorie, a tutti i cittadini, a tutti quelli che si sentono minacciati o che ci vedono minacciati dalle nuove regole, una manifestazione in cui chiediamo più chiarimenti rispetto al DPCM e l'unica cosa che chiediamo a tutti i partecipanti è di venire vestiti da lavoro, quindi cuochi con le parananze, come insomma datevi, aprite la fantasia, portate qualcosa per fare rumore, fischietti, trombe, trombette e con la voglia di cambiare soprattutto chiediamo di venire. Una prima protesta che chiaramente non è stata organizzata con noi, quindi ogni manifestazione è sempre venne accetta, basta che sia fatta con dei criteri, insomma quello che è successo ieri in parte secondo noi non è una cosa giusta, bastava semplicemente organizzarsi un pochino meglio e collaborare, quindi ci dissociamo non dalla manifestazione, ma dall'organizzazione della manifestazione che è avvenuta ieri e domani in piazza cercheremo di fare una cosa, una cosa ordinata, corretta, ma dove si chiedono chiaramente delle risposte per quello che sarà il futuro, perché sia le attività che gli esercenti, che le persone hanno diritto di sapere dal governo quali sono, insomma come dobbiamo procedere, se dobbiamo camminare, se ci dobbiamo fermare, che cosa succederà, perché non è chiaro neanche a noi, questo DPCM è assolutamente un punto di domanda. DPCM è assolutamente un punto di domanda,